Sulla polemica tra Renzi e l'ex Premier Conte, lei cosa ne pensa? Conte è ossessionato da Renzi, è ossessionato perché naturalmente Renzi lo ha mandato a casa, Italia Viva lo ha mandato a casa e quindi ogni occasione per generare polemica la mette in pratica, ci cavalca sopra. Del resto è l'unica cosa che dice Conte che gli consente di ottenere gli applausi nel Movimento 5 Stelle. L'unica cosa su cui sono uniti è attaccare Renzi. Conte lo sa ed è l'unica cosa che riesce a dire in continuazione.